salve a tutti signori io sono lorenzo e benvenuti nel mio canale espertone oggi andiamo a vedere come ripristinare e risintonizzare una tv i sense vado a premere il tasto casetta per andare dentro su questa impostazione qui e poi vado con la mia freccetta di destra nelle impostazioni che sarebbe quel disegno dell'ingranaggio vado giù fino in fondo non sul menu sistema ma bensì nel menu supporto anche io adesso vi ho fatto vedere sistema è un altro menu pensavo fosse dentro quei ripristino di impostazioni invece bisogna andare sul supporto l'ultima voce in fondo ripristina le impostazioni di fabbrica qui vado a mettere il codice pin che avevo messo inizialmente 1 2 3 4 io di solito metto e mi sposto con la freccetta verso sinistra e vado su ripristina e clicco l'ok vado a mettere il codice pin che mi propone in questo caso la tv questo è un servizio in più che da i sense e abbiamo fatto partire ripristina la tv lei adesso si riavvia e ripristina la tv come se fosse nuova vedete adesso io qua vado a selezionare la mia lingua o il mio paese prima la lingua poi il paese italiano gli do inizio e gli do ok devo connettermi per forza ad internet quindi vado dentro sulla mia connessione internet metto la mia password e poi andrò a mettere lei si collega in internet e cercherà anche degli aggiornamenti bene una volta connessi ad internet andiamo avanti con la nostra freccetta vedete che adesso si sta ancora connettendo gli diamo qui gli diamo ok vado a mettere sempre paese italia qui accettiamo tutto e diamo ok avanti qui andiamo giù io vado a mettere l'account poi voi se volete metterlo per semplicità mettetelo pure saltare il collegamento la tv ok qui adesso faccio salta dopo voi potete mettere quello che volete andiamo all'home page vado su in alto sempre su impostazioni come avevo fatto inizialmente e vado su canale metto scansione automatica metto il codice pin che avevo messo inizialmente vedete che adesso lui mi ha trovato un aggiornamento io adesso faccio salta ma se volete farlo fateglielo sapete che vi porterà via un'oretta da scaricare installarlo e tutto qui rimettiamo il nostro codice pin di conferma e parte la sintonia io ho messo solo antenna e digitale terrestre perché non ho il satellite in questo caso però se volete fare la sintonia anche dei satellite basta flegare satellite e avete fatto la vostra sintonia bene adesso andiamo avanti con la sintonia vedete che ha già trovato 78 canali è molto veloce questo sintonizzatore comunque la tv i sense uled quindi quasi top di gamma la serie più bassa dopo l'oled 63 per cento e 109 canali acceleriamo un attimo i tempi e arriviamo alla fine qui mi dice di risolvere il conflitto l'alc n quindi metto rai 1 hd si poi andrò a mettere rai 2 hd si e tutti quelli che ci sono i conflitti da risolvere e così la nostra scansione è finita idolo ok e adesso vedremo le nostre trasmissioni bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al mio canale per gratuito e attivate le tasse notifiche grazie a tutti